buonasera buonasera a tutti eccomi qua di nuovo con voi anche stasera e anche come ogni sera per discutere di tutto quello che sta accadendo durante la giornata e sta accadendo molto ci sono numerosi eh veri e propri nubifragi che si stanno avvicendando durante il corso della giornata oltre a piogge finalmente stese al nord con nevicate in quota elevata sulle Alpi ma guardate che bella carta nubifragi in questo momento ci sono mentre vi parlo forti temporali lungo l'allenamento che va dalle coste maremmane al confine della Lazio e Toscana verso l'interno del Grossetano e eh ancora più violenti nella Sicilia occidentale con un'enorme eh struttura di tipo MCS che è il convective system ovvero un agglomerato molto intenso di temporali che dalla Sicilia occidentale si porta lungo tutto il basso Tirreno adesso vi faccio vedere le immagini comunque ci sono ci sono state violente precipitazioni anche oggi specialmente sul Tirreno e su tutto il settentrione ma vediamo cosa sta succedendo e come andrà a proseguire nelle prossime ore le immagini sono davvero eh diciamo significative qui c'è una grossa perturbazione che scende dalla Francia ma eh non ci interesserà sostanzialmente perché ci sarà poi un rinforzo della pressione ma ora quello che ci interessa invece è questa area calda subtropicale che risale contrasta con dell'aria fredda che è scesa in precedenza dalla Francia venuta giù e che forma questi corpi nuvolosi molto intensi eh questo è l'infrarosso quindi non si vedono alcuni anche cluster temporaleschi e poi questo che si è formato da poco sulla Sicilia occidentale guardate che è sorta di di mostro di bestione e sta dando veramente delle vere e proprie inondazioni ad esempio a Mazzara del Vallo ve le faccio vedere eccoli alla sulle luci del tramonto guardate quanti nuclei temporaleschi che risalgono a con le ultime luci e quest'altro che si è formato da poco qui nella Sicilia occidentale e questo in particolare che sulla Maremma guardate il cursore e la freccia che potrebbe potrebbe dico nelle prossime ore andando verso est interessare nuovamente la capitale che è stata già comunque interessata da violente precipitazioni e eccoli qua guardate questi eccoli qua vedete come si spingono verso nord e qui c'è allora quello siciliano guardate che è agglomerato di di fulmini temporali e quest'altro che risale verso nord sulla Toscana e che sta ormai sfiorando Roma e poi al nord ci sono parecchie precipitazioni vi faccio vedere il radio quindi ecco le non so se le sentite il ticchettio dei fulmini un enorme ammasso è questo qua siciliano non si vede bene in rata ma sentite che si sposta verso nord e quest'altro poi che prosegue anche verso nord e altri se ne formeranno interessando tutto eh c'è vasti settori del centro nord vediamo comunque che cosa dice la carta di previsione allora la faccio vedere eccola qua no scusate eccola qua questa qui allora questa è la situazione eh stanotte questo ecco stanotte ci sarà ancora questa ehm bassa pressione che porterà comunque correnti umide eh subtropicali nelle nostre regioni tirreniche verso il nord est quindi ancora temporale fino alla nottata e poi ecco il netto miglioramento domani sera domani sera eh dalla dal tirreno torna l'alta pressione coricata lungo i paralleli ed ecco qua il fine settimana ad eccezione di qualche infiltrazione fresca al nord est sarà buono torna il sole una vera e propria ottobrata proprio con l'inizio di ottobre guardate come prosegue ancora bel tempo fino al sei il sette bel tempo c'è eh temperature miti ma non caldo come alcuni dicono sarà mite e poi sembra poter peggiorare di nuovo eh al eh al termine del prossimo weekend ma nel frattempo arriva un' ottobrata arriva il bel tempo ma non adesso nelle prossime ore ripeto tutta la notte ancora temporale anche a carattere di nubifraggio nel medio terreno tra Toscana e Lazio piogge eh diffusa al nord con indicate sulle Alpi e ancora un altro nucleo di maltempo che sulla Sicilia prestare attenzione per porti nubifragi proprio sulla Sicilia che risale nel nel medio nel basso tirreno e che potrebbe interessare poi anche eh il settore del basso tirreno aggiorneremo in merito ripeto attenzione adesso a Sicilia Lazio e Campania e e qualche nevigata anche al nord questo fino a domani poi domani sera netto miglioramento con l'ottobrata un abbraccio a tutti eccola qua la carta che vi mostra tutti i fulmini iscrivetevi al canale YouTube e cliccate sulla campanellina ci aggiorniamo presto perché c'è ancora molto da dire eh anche su quello che sta accadendo nelle varie parti dell'Italia un abbraccio a tutti ripeto e ciao 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 ciao